Sono una persona per bene e sarò sempre una persona per bene, sempre! Vai, bravo! Guardate, io non ho mai avuto una tessera politica in tasca, mai in tutta la mia vita ho 53 anni. Mai ce l'avrò una tessera politica in tasca. Farò il sindaco per 5 anni e dopo 5 anni tornerò a fare l'imprenditore. Non ho vissuto mai di politica e mai vivrò di politica. Lo stipendio del sindaco lo metteremo su un fondo con tutti voi i testimoni che servirà per i poveri e per le persone in disagio. Non farò mai fisici il sindaco, ma lo farò soltanto per voi. Perché non è giusto che questa città mi abbia così oltraggiato, siete stati oltraggiati. E adesso il lavoro deve essere la sfida del lavoro contro quelli che non vogliono fare nulla. C'è gente che non faceva nulla quando io andavo all'università. Continuano a non fare nulla!